Romina Power torna a parlare della figlia Ilenia Carrisi, la figlia scomparsa nel nulla nel 1993 e il cui ricordo continua ad affliggerla. Lo fa postando un'immagine inedita e un nuovo messaggio davvero struggente. Il mistero Ilenia sparì nel nulla nel lontano 1993, quando aveva 23 anni. Fu vista l'ultima volta a New Orleans. Lì aveva conosciuto il trombettista di strada Alexander Masachela. Il guardiano del Waldenberg Park, Albert Cordova, giurò di averla notata mentre si gettava nelle acque del Mississippi. Ma non fu mai trovato alcun cadavere. Per anni e anni, si inseguirono in vano avvistamenti, puntualmente rivelatisi falsi, anche dopo la sua morte presunta, del dicembre 2014. E stati felici Albano, ha sempre ritenuto gli avvistamenti delle, speculazioni. Romina, da poco diventata nuovamente nonna, sembra non aver mai perso la speranza di rivederla. Ogni anno posta un'immagine di Ilenia per il suo compleanno, e ora le regala un post, in cui la figlia compare in giardino a fianco di un'amica. La mia splendida Ilenia con Maffi. Molto tempo fa e in un posto lontano, quando ancora le stati erano lunghe e felici. Tantissimi i commenti affezionati dei follower.